Sono tornati in classe, hanno rivisto i compagni dopo la lunga pausa delle vacanze estive. Oggi suona la campanella a San Cito l'inizio del nuovo anno scolastico per oltre 24.000 studenti di Valtrina Valchiavenna. 7.900 gli iscritti alle superiori, circa 5.000 alle medie, gli alunni delle primarie sfiorano quota 8.000. Ecco l'impressione raccolta da uscita da scuola tra i bimbi degli elementari e i loro genitori. Com'è andata la scuola a primo giorno? Bene. Vi conoscevate già tutti? Sì, ma c'era una nuova bambina. Era meglio stare in vacanza o venire a scuola? Venire a scuola così si impara. Era gasatissima, non vedeva l'ora di tornare a scuola. Buongiorno a scuola, com'è andata? Bene. Lui è molto felice venire a scuola, almeno. Speriamo che sia come l'anno scorso. Eri emozionato? Sì. Ti piace la scuola? Ma un po'. Era meglio la vacanza? Sì, è venuto la vacanza. Dopo tre mesi i bambini torneranno a scuola? Ma anche contenti di rivedere i loro amici, certamente ci vuole. Tre mesi sono forse un po' lunghi. Quando poi sono più di uno non è sempre facile effettivamente. Quindi un buon inizio a tutti. Grazie mille. Raccontaci la tua emozione oggi. Allora, sono stato molto emozionato di incontrare i miei amici. Il primo giorno di scuola si parla, si raccontano le vacanze e niente. È stato bello. Che cosa ti piace della scuola? Della scuola i compagni che sono molto solari. Com'è andato il primo giorno di scuola? Bello. Che cosa hai imparato oggi? Tante cose. Ma era meglio stare in vacanza o venire a scuola? Venire a scuola. Speriamo che duri. Buongiorno, manda! E tu com'è andata oggi? Bene. La felicità. Perché è bello andare a scuola? Perché posso imparare le cose. Quali sono le tue materie preferite? Inglese, storia, geografia, musica e scienze. Ciao mondo! Ciao, ciao!